parte seconda la griglia piena eo psicopatico in stadio avanzato e il suo socio stiamo parlando di gente del genere attenzione un trattore che inquadriamo prontamente che va a fare il suo sporco lavoro Dino che fa il cartino adesso mi metto a sole ma durerò molto ma molto poco anche perché il mio unico scopo è arrivare a lei perché sono disidratato molto molto bene indovinate dove va a finire melanzane una la troveremo molto bruscata aspettando della verdura ci interessa poco abbiamo un albevo la in compagnia e solo per lei che facciamo tutto questo casino forse per noi solo corne dovresti che appena scegliere a letto per la cronaca grazie grazie